È un enorme, enorme privilegio poter essere di nuovo qui a condividere la parola con voi. Voglio ringraziare veramente il nostro pastore Dan per tutte queste state che veramente ha fatto il doppio turno. Siamo stati tutti benedetti dalla sua esposizione di Giacomo. Ho un grande desiderio, quello di fare un Vangelo, però avevamo bisogno di un ponte. E c'è veramente una cosa che mi sta molto a cuore e che ci sta molto a cuore come pastori. Quando tu leggi giornali, quando ti arrivano le bollette a casa, quando tu hai le difficoltà che ognuno di noi affronta. E così vi voglio fare una domanda e vorrei veramente tutta la vostra onestà stamattina se anche voi avete bisogno di questa cosa. Infatti la cosa che voglio chiedere è questa, chi qui stamattina avrebbe bisogno di incoraggiamento? Alzi la mano. Chi ha bisogno di incoraggiamento? Bene, tutti gli altri siete bugiardi. Infatti qualcuno ha detto che il modo per sapere se una persona ha bisogno di incoraggiamento? Cosa? No, basta vedere se respira. Se smette di battere il cuore è tardi per l'incoraggiamento. Ok? E così oggi vogliamo cominciare una piccola serie, piccola grande serie, su un libro che molti considerano, il libro, una delle lettere più incoraggianti della Bibbia. Potremmo dire un balsamo per i nostri cuori. Abbiamo studiato tanti libri, infatti io e il pastore Daniel abbiamo guardato negli ultimi 13 anni e abbiamo fatto una lista di tutti i libri che abbiamo studiato e siamo abituati che i libri affrontano anche delle difficoltà e dei problemi, vero? I problemi teologici, per esempio, di Galati, che sicuramente faremo in un futuro non troppo lontano, spero. I problemi morali dei Corinzi. Poi abbiamo visto i problemi di unità nel libro dei Romani, tra ebrei e gentili, vi ricordate? Ma Filippesi è forse una lettera in una categoria a parte, in questo senso, perché la storia degli Filippesi è veramente straordinaria. È piena di particolari che sono diversi dalle altre chiese che Paolo ha fondato e forse questa chiesa è unica nel suo genere e una che faremo bene veramente a imitare. E non che sto dicendo che Filippesi era una chiesa senza problemi, come vedremo, ma è una chiesa che andava nella direzione giusta e che era un grande incoraggiamento nella vita di Paolo e così sono convinto che lo sarà anche per noi ora. Preghiamo. Padre Santissimo, siamo così ansiosi di entrare nella Tua parola perché Tu parlerai a noi, Tu guiderai le nostre vite, Tu correggerai la direzione della nostra vita e Tu ci mostrerai delle cose che forse ci saranno sgradevoli ma anche altre che ci saranno di grande incoraggiamento. E così, Padre, apri i nostri cuori per mezzo del Tuo Spirito che ognuno possa uscire di qua rinnovato se una persona qui ancora non è ravveduta che possa uscire ravveduta, salvata dai propri peccati per mezzo della Tua verità, del Tuo Vangelo e di queste parole che Tu ci darai. Nel nome di Gesù. Amen. Quanti di voi vi è mai capitato di aprire una lettera di corrispondenza scritta a qualcun altro? Vi è mai successo? Sì, diversi di voi avete aperto una lettera ma questa lettera di marito, la moglie, forse di un amico, forse un compagno di scuola. Apri! E c'è una cosa particolare quando tu ricevi una lettera che non è tua. a volte ti manca il contesto per capire questa lettera. Per esempio, prendo un nome a caso stamattina Franco perché sto guardando Franco e facciamo finta che questa lettera è indirizzata a Franco e dice, caro Franco, ti ricordi quella volta che abbiamo fatto insieme quella cosa? Mi raccomando di continuare quello di cui noi abbiamo parlato. Ci vediamo al solito posto, alla solita ora, con gli altri del gruppo ovviamente. A presto qualcun altro. Diciamoci la verità, se tu leggi una lettera così una lettera del genere, senza contesto sarebbe abbastanza da confondere anche i servizi segreti forse anche la CIA e il KGB, vero? Non si ha abbastanza informazioni per capire cosa questa persona vuole scrivere a Franco. Ecco perché il contesto ci aiuta tantissimo. Così è con la lettera dei filippesi che noi cominceremo oggi. Sentite, per esempio, al versetto 3 del capitolo 1 dei filippesi dopo ci arriveremo a filippesi ma ascoltatemi perché ci dovremo arrivare con molta pazienza e il versetto 3 dice Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi. Se voi leggete questo versetto qual è la domanda a chi dovremmo farci? Quale ricordo? Non so Paolo, quale ricordo? a cui ti riferisci. Versetto 4 e 5 è un altro esempio di questo e dice E sempre, in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino a ora. Quale partecipazione al Vangelo Paolo? Cosa significa? Quale primo giorno? Versetto 6 pure dice E ho questa fiducia che colui che ha cominciato un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Come è cominciata l'opera buona di Paolo? E lui dice che loro devono continuare. Così non basta leggere ma cioè ci vuole molto utile a questo punto avere un po' di contesto e Dio ce l'ha dato. Sapete come si chiama il contesto di Atti? Eh sì, l'ho detto. Il contesto di Filippesi? E' come chi dice la battuta male, vero? Atti, ok. Vi ho dato già la risposta. Così vogliamo adesso aprire le vostre Bibbie non a Filippesi ancora. Se avete già Filippesi potete mettere un segnalino, un dito, ci arriveremo. Oggi è l'introduzione, come vedete dal titolo, introduzione all'epistola di Paolo ai Filippesi. E per capire i Filippesi io penso che sia molto utile andare alla storia di Atti. cominciando col capitolo 15. Così la prima cosa, se avete gli appunti che voi vedrete di questa chiesa straordinaria, di questa chiesa inusuale forse, tra le altre, è che la chiesa di Filippi ebbe delle, come vedremo, delle origini inusuali. Infatti, che ci crediate o no, l'origine della chiesa di Filippi comincia da quattro cose, che vedremo. un litigio, una porta chiusa, un sogno e dei nuovi compagni di viaggio. Se non ne avete scritto tutti quanti, non vi preoccupate, andremo man mano. Così abbiamo Atti, Atti 15. In Atti 15 vediamo una storia molto interessante. Vediamo che Paolo, chi era il compagno di Paolo fino ad Atti 15? Barnaba, bravi. Barnaba e Paolo stavano per cominciare un secondo viaggio missionario. Il primo viaggio missionario era partito da quale città? Vi ricordate? Da Antiochia, che è una città in Siria, e ad Antiochia questa è stata la loro chiesa mandante. Questa è la chiesa che per mezzo dello Spirito Santo ha comunicato a questa chiesa di mandare Paolo e Barnaba in missione. Quindi loro hanno fatto tutto questo viaggio missionario e sono tornati dopo tutto questo giro ad Antiochia, dove tra varie cose loro hanno potuto anche condividere quello che Dio aveva fatto nel loro viaggio. Così sono pronti per il secondo viaggio e Barnaba ha una brillante idea. Dice Paolo, perché non portiamo con noi il mio cugino Giovanni Marco? Te lo ricordi? Paolo dice, a voglia se me lo ricordo. Dice, dice Barnaba, perché non lo portiamo con noi? E Paolo probabilmente non gli ha dato la reazione che lui si aspettava. Infatti, la Bibbia quasi ci fa capire che Paolo poteva forse dire le parole tipo ma sei matto? Non ti ricordi come è andata a finire l'ultima volta con questo tuo cugino? Sapete la storia, forse non la sapete, ve la racconto io. L'ultima volta Marco, essendo un ragazzo molto giovane, immaturo, gli aveva piantato in asso dopo la prima difficoltà. Barnaba non era sicuramente felice di questa reazione di Paolo e Paolo non era felice di questo suggerimento e Atti ci racconta che alla fine ebbero un aspro dissenso. Avete mai avuto un aspro dissenso? Un diverbio, una difficoltà da andare d'accordo, ad arrivare a un compromesso, sono arrivati a un compromesso che forse non ci sembra più spirituale ma che Dio ha usato in modo grande. Hanno deciso che Barnaba avrebbe continuato la sua strada per la loro missione e che Paolo, è come Giovanni Marco, e Paolo invece, come se guardiamo la geografia, avrebbe preso la strada e sarebbe tornato alle chiese dove era già stato. E questa volta, siccome Barnaba andava in un'altra direzione, ha preso un altro fratello di nome Sila, che è un soprannome che usa Luca per parlare di Silvano, che conosciamo anche in altri brani nella Bibbia. Così, vediamo come da un litigio, vediamo questo litigio dove Paolo iniziò il secondo viaggio missionario con un aspro di senso, con il suo migliore amico, probabilmente, che era Barnaba. Ma Dio ha usato questo. Ma non finiscono le avventure qua. Arriva un'altra avventura e qui cominceremo a guardare proprio il testo. Paolo era tutto contento di andare, ma c'era una porta chiusa. Infatti, Paolo e Sila volevano procedere verso il nord-est. Se avete una Bibbia con le mappe dietro, io guardo sempre le mappe, mi piace molto visualizzare questo viaggio. Probabilmente avete una mappa che dice il secondo viaggio missionario. E voi vedrete che Paolo inizialmente da Antiochia voleva salire su e andare verso nord-est. ma Dio glielo impedì. Guardate il versetto 6, ho sbagliato qua, no, il versetto 6 dice che attraversarono la frigia e la regione della Galassia essendogli stato impedito dallo Spirito Santo di annunciare la parola in Asia. Sapete che Asia era una regione romana, una provincia romana anzi, e giunti ai confini della Misia cercavano di andare in litigna. Ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro e oltre a passata la Misia discesero a Troas. Quanti di voi avete avuto questa esperienza che eravate convinti di una cosa che Dio voleva e Dio chiude quella porta. Così è stato per Paolo. a volte Dio chiude una porta quando noi meno ce lo aspettiamo. Sicuramente si erano chiesti e adesso cosa facciamo? Dio non vuole che noi andiamo in Asia. Ma Dio gli rispose. Rispose a questa loro confusione forse, questa perplessità o questa sicurezza che comunque non dovevano procedere per quella via che forse avevano anche pubblicizzato nella chiesa di Antiochia. In modo inusuale Dio gli risponde per mezzo di un sogno. Ecco quindi se siete state seguendo gli appunti il sogno. Per mezzo di un sogno Dio li guidò nella direzione opposta verso l'Europa. Guardate Atti 16 del 7-9. Paolo ebbe durante la notte una visione. Ho sbagliato qualcosa? Ok, Atti 16-9. Un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo passa in Macedonia e soccorci. Per capire bene la lettera che stiamo guardando dobbiamo farci quindi una domanda geografica per capire quello che loro in Atti leggendo il libro di Atti i primi secoli avrebbero capito benissimo. Cos'è questa Macedonia? Non è il cibo ovviamente non so nemmeno perché noi chiamiamo quel cibo di frutta Macedonia ma era una provincia romana e chi erano questi macedoni? Erano persone che vivevano in una zona della Grecia al nord e la città di Filippi che noi andremo a studiare insieme era una città molto importante ancora prima dei romani. Sapete chi ha fondato la città di Filippi? Il nome lo dice Filippi un certo Filippo era Filippo il Macedone esatto e Filippo il Macedone era il papà di una delle persone più famose della storia Alessandro Magno quindi l'idea della Magna Grecia in qualche modo parte proprio da questa zona del mondo potete già cominciare a capire com'era questa chiesa di Filippi il contesto in cui vivevano il contesto in cui poi Paolo scrive questa bellissima lettera ma non soltanto ce l'avevano i greci questa città già nel 163 non so perché mi ricordo questo numero ma nel 163 avanti Cristo questa città divenne una colonia romana e sapete per conquistare il mondo ci vogliono molti soldati e questi soldati per farli combattere gli devi fare delle promesse così quello che spesso succedeva è successo anche nella guerra che è arrivata con i romani qua a Perugia quella è un'altra storia ma i romani promettevano i generali gli imperatori e anche la repubblica romana promettevano a questi soldati delle terre e così i romani hanno promesso questa zona ai soldati in pensione i soldati dice basta non ce la faccio più di combattere sono vecchio non faccio non sono più giovane per andare a conquistare ho bisogno del mio riposo e così i romani gli hanno dato gli hanno regalato delle terre in questa zona e così è diventata una città molto importante in quella zona per l'impero romano è piena di ex soldati così è molto interessante che Paolo e Sila che volevano tanto andare in Asia per mezzo dello Spirito Santo capiscono che loro devono andare nell'altra direzione e cominciare a fondare le chiese nella nostra Europa possiamo essere sicuri quindi che quando Dio chiude una porta ha sempre dei buoni motivi e adesso arriviamo alla quarta cosa molto interessante e questa dovete avere un po' di pazienza con me perché un pochino con la cronologia bisogna saltare un po' qua e là ma adesso scopriamo i nuovi compagni di Paolo vi ricordate che Paolo e Barnabas erano stati così bene insieme ma in questo momento loro avevano dovuto dividersi e invece di avere una missione ne hanno avute due e così Paolo si trova ad avere i nuovi compagni uno l'abbiamo già trovato chi è? Sila ok ma ce ne sono altri due che probabilmente conoscete anzi al 99,9% sono convinto che li conoscete e forse non sapete che proprio in questo punto della storia questi compagni arrivano a lavorare con Paolo il primo è Timoteo infatti scopriamo in Atti 16,1 che giunse ad Erba e a Listra Paolo e là c'era un discepolo di nome Timoteo figlio di una donna ebrea credente ma di padre greco di lui rendevano buona testimonianza i fratelli scusate che erano a Listra e a Iconio e Paolo volle che egli partisse con lui quindi qualcuno pensa ma Barno era sempre quello che incoraggiava prende con sé Giovanni Marco ma Paolo pure quando trova il giovane giusto che lui era convinto che fosse giusto lo prende con sé così abbiamo Timoteo che si aggiunge a Sila e a Paolo ma non finisce c'è un colpo di scena qua prima di salpare per l'Europa vi ricordate adesso sono in Turchia e loro guardano l'Europa dall'altra parte di questo non proprio canale ma questa zona stretta le navi di quei tempi non erano grandi navi e quindi loro dovevano fare piccoli attraversamenti e loro guardano e dice che prima di salpare per l'Europa presero con sé un altro compagno di viaggio e questo compagno lo sapete chi era? Luca il famoso Luca che poi racconta questa storia e abbiamo un indizio di questo che guardate appena tu guardi al versetto 10 di Atti 16 notiamo che prima Luca descrive che loro andavano facevano e adesso dice che noi facevamo dice appena ebbe avuto questa visione la visione di cui abbiamo parlato prima cercammo subito di partire per la Macedonia convinti che Dio ci aveva chiamati là ad annunciare loro il Vangelo così l'avventura di Luca comincia qua forse già adesso comincia in questi viaggi a prendere appunti di ascoltare tutta la storia che poi Paolo racconta e lui racconta a noi per mezzo di Luca perciò dice versetto 11 salpando da Troas puntammo diritto su Samotracia e il giorno seguente su Neapolis di là ci reclammo a indovinate dove a Filippi che è la colonia romana e la città più importante di quella regione della Macedonia e restammo in quella città alcuni giorni e qui è molto interessante fate attenzione a quest'ultima frase restamo in quella città alcuni giorni come? non ha fondato una chiesa a Filippi? perché restammo qua solo alcuni giorni? adesso andremo a vedere perché ora arriviamo al secondo punto stamattina abbiamo guardato insieme che la chiesa di Filippi ebbe origini inusuali siete d'accordo con me? non è tutti i giorni che comincia da un litigio vero? da una porta chiusa a un sogno e da nuovi compagni ma adesso guardiamo arriviamo proprio a Filippi siamo arrivati adesso a Filippi abbiamo salpato abbiamo girato siamo arrivati a questa grande città città importante per i romani e per i greci e scopriamo che la chiesa di Filippi nacque anche in modo inusuale guardate i versetti 16 a 11 che vedremo insieme 16 da 11 a 15 e dice queste bellissime parole si è giunse e scusate 16 questo è il difetto di saltare prometto che nel prossimo messaggio faremo 27 per 37 sarà molto più facile dice che salpando la trova spuntammo l'abbiamo già letto questo e arrivarono a Filippi ma c'era un problema cosa mancava a Filippi che c'era stato in tutti i posti dove Paolo andava prima esatto la sinagoga infatti la chiesa di Filippi nacque in modo inusuale infatti nacque sulle rive di un fiume non so quante chiese nel mondo sono state fondate sulle rive di un fiume probabilmente tante ma questa forse era una delle prime perché non c'era la sinagoga infatti se guardiamo tutta la storia di atti potremmo dire che se Paolo avesse scritto un manuale su come fondare una chiesa avrebbe detto cosa numero uno da fare andare alla sinagoga cercare gli ebrei e parlare del messia qui non c'era la sinagoga e loro vanno l'unico posto dove loro sanno di poter andare dice versetto 13 il sabato andammo fuori dalla porta lungo il fiume dove pensavano che fosse un luogo di preghiera e sedutici parlavamo alle donne la riunite in piano B se non c'era la sinagoga sono andati dove tutti noi dovremmo andare dove sai che ci sono delle persone che hanno degli interessi spirituali e qui arriviamo a un'altra cosa molto interessante forse più interessante la cosa interessante è chi incontrarono al fiume infatti la chiesa di Filippi nacque per mezzo di una donna straniera forse a noi nel nostro mondo molto pluralista dove le donne ormai veramente guidano le nazioni forse ci è meno scioccante questo concetto ma ricordatevi che questi erano ebrei che erano abituati a volte i farisei che nemmeno parlavano con le donne ma Paolo ovviamente sotto la guida di Dio è l'esempio di Gesù stesso non aveva problemi ad andare e anche nell'impero romano era molto più accettato il ruolo delle donne anche di guida ma una donna della città di Tiatiri dice versetto 14 commerciante di porco di nome Lidia che temeva Dio stava ad ascoltare il Signore aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo dopo che fu battezzata con la sua famiglia ci pregò dicendo se avete giudicato che io sia fedele al Signore entrate in casa mia e alloggiatevi e ci costrinse ad accettare ricordatevi tutti questi dettagli perché ci serviranno tra poco quando noi leggeremo questa bellissima lettera insieme chi era quindi la persona chiave inizialmente nella chiesa dei Filippi era una donna straniera mai sottovalutare il ruolo di una donna straniera che prega e Lidia era una commerciante di Tiatira che era in Asia in Asia minore e sembra abbastanza ovvio che lei abitava lì per motivi commerciali viveva lì lavorava lì vendeva la porpora che a quei tempi era il colore dei re potremmo dire e questo ci dovrebbe essere di grande incoraggiamento perché noi lo sapete noi diciamo noi siamo una chiesa italiana vero? noi qua parliamo italiano e tutti noi veniamo qua da dove veniamo e comunichiamo la maggior parte del tempo nella lingua italiana predichiamo in italiano studiamo in italiano ma non significa che per noi non ha valore chi viene da un altro paese come me che sono nato in un paesino tanto lontano da qua a Dio non interessa dove siamo nati o da quale cultura noi veniamo o se sei uomo donna o giovane bambino Dio chiama chi vuole e usa chi vuole che grande incoraggiamento e ora sembra che immaginatevi questa scena che loro hanno un posto dove stare questa Lidia era benestante quindi aveva tutto lo spazio di cui avevano bisogno e questa chiesa sta nascendo le persone stanno venendo sicuramente Lidia aveva buoni contatti altre persone la sua famiglia ascoltavano Paolo ma come sempre avviene il diavolo ci mette lo zampino guardate versetto 16 siamo arrivati al versetto 16 di capitolo 16 dove vediamo un altro problema dice mentre andavano al luogo di preghiera incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione era indemonata insomma facendo l'indovina essa procurava molto guadagno ai suoi padroni costei messasi a seguire Paolo e noi gridava questi uomini sono servi del Dio altissimo e vi annunciano la via della salvezza così fece per molti giorni potete immaginare la prima ok sì l'abbiamo sentito sì caro è vero è vero siamo qua ok abbiamo sentito ma Paolo dice dopo molti giorni infastiditosi si voltò e come solo lui e pochi altri potrebbero fare disse allo spirito io ti ordino nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei ed egli uscì in quell'istante e il popolo celebrò con grande gioia questo miracolo di Dio vero? no esatto i suoi padroni vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita presero Paolo e Sila e li trascinarono sulla piazza davanti alle autorità ricordatevi piazza di città romana ormai e presentateli ai loro pretori che è un altro termine romano dissero questi uomini che sono giudei turbano la nostra città e predicano riti che a noi romani non è lecito accettare né praticare la folla insorse allora contro di loro e i pretori strappatele i loro versi comandarono che fossero battuti con le verghe e dopo aver dato loro molte vergate li cacciarono in prigione comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente ricevuto tale ordine egli li rinchiuse nelle parti più nella parte più interna del carcere e mise i ceppi ai loro piedi veramente Paolo sono andati Paolo e Silvia sono andati dalle stelle alle stalle e il punto numero 3 che noi vediamo che osserviamo è questo che la chiesa di Filippe ebbe un battesimo inusuale potremmo dire un battesimo di fuoco voi sapete noi celebriamo molti battesimi nella nostra chiesa cos'è il battesimo se non un'iniziazione vero un'iniziazione nella chiesa così questa era un'iniziazione nella sofferenza per questa chiesa la chiesa di Filippi fu inaugurata con il fuoco un battesimo potremmo dire di persecuzione normalmente almeno le storie che ho sentito anche le vostre storie magari voi avete anche avuto delle persecuzioni forse dai familiari forse da scuola e normalmente inizia piano piano la persecuzione quando magari un genitore dice ah no no mi va bene tutto però dopo quando vedi che fai su serio comincia a avere difficoltà con quello che tu vivi oppure un tuo collega un capo al lavoro e le storie sono tante anche l'impero romano stesso Roma noi pensiamo sempre a Roma e pensiamo al Colosseo pensiamo alle Belve pensiamo a Nerone ma sapete che prima di Nerone i cristiani non furono perseguitati e fu nell'ultima parte dell'impero sotto Nerone quindi la persecuzione dei cristiani non era una cosa a cui erano abituati ancora a questo punto nella storia ma questa chiesa non era nemmeno nata praticamente che già era perseguitata dai romani qual è il pretesto che questa questa città questo popolo dà per perseguitare loro hanno detto perché voi non seguite la nostra religione ma Luca ci dice il vero motivo per cui loro venivano perseguitati qual era? Genaro finché non era un problema finanziario non c'era problema e quanto spesso è così che magari le persone sembrano interessate al Vangelo ma dopo succede qualcosa per un interesse personale e poi dicono no 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 perché questa non è la mia religione è vero? Così è proprio la natura umana che usiamo spesso quando non conosciamo il Signore la religione come pretesto di quello che sono veramente le motivazioni più profonde quindi ebbero un battesimo di persecuzione ebbero anche un battesimo di prigionia e infatti vediamo questa storia che aveva ben letto che Paolo e Sila ricevettero l'umiliazione più grande che potevano furono spogliati battuti incarcerati nelle segrete più buie che loro avevano in quella città adesso fermatevi un attimo ricordatevi che noi arriviamo alla lettera dei filippesi e ricordatevi da dove scriveva Paolo ai filippesi scriveva dalla prigione non la prigione peggiore che poi ha sperimentato quando vediamo in primo secondo Timoteo e Tito ma era comunque legato incatenato in casa e scriveva e pensava a forse questa prima prigione infatti non abbiamo altre testimonianze da quello che sono riuscito a vedere nel Nuovo Testamento che Paolo sia stato incarcerato prima di Filippi quindi guardava ricordava questa prima sua incarcerazione mentre lui scriveva ai filippesi ma adesso torniamo a a Filippi torniamo a Filippi dove vediamo un uomo anzi due uomini due evangelisti due missionari che avevano tutte le intenzioni di fondare una chiesa di Filippi e si trovano in prigione e uno penserebbe che sarebbe finita la storia lì quante volte le persone vengono incarcerate forse ingiustamente per cercare di fermarle ma questo non è il caso uno penserebbe che per fondare una chiesa ci voglia libertà invece spesso sono proprio la prigionia e le persecuzioni che stimolano la crescita Tertulliano era un pastore del terzo secolo e lui scrisse una frase molto conosciuta disse il sangue dei martiri è il seme della chiesa e così Paolo e Sila e sicuramente anche Timoteo anche se non era incarcerato forse nel loro scoraggiamento in questo momento così buio non si sono dati per vinti però prima di andare avanti vorrei che noi ci fermassimo a considerare questo esempio che loro ci hanno dato e di chiederci perché tutti noi non vi chiedo di alzare la mano chi sta subendo una prova oggi perché tutti noi abbiamo delle prove e se non ce l'hai oggi ce l'hai domani sappiamo che fa parte della vita ma la domanda che forse Paolo e Sila si stanno chiedendo e che ci fa bene chiederci è come userà Dio questa prova per il suo bene e anche per il mio quali opportunità mi porterà e io stamattina nel pensare a questo messaggio ho subito avuto due, tre, quattro forse dieci pensieri di cose difficoltà nella mia vita e secondo me voi ce ne avete anche più di me e questo è incoraggiante pensare che la storia non è finita e che forse Dio sta usando proprio quella tua difficoltà per la sua gloria e per il dietro fine che tu avrai se sei un seguace di Cristo per mezzo di queste prove vediamo proprio l'opera straordinaria di Dio anche a Filippi infatti il quarto punto stamattina è questo che la chiesa di Filippi sperimentò una forza inusuale la forza inarrestabile del Vangelo di Cristo il Vangelo non si ferma il Vangelo va avanti Gesù ha detto le porte dell'Hades non la sconfiggeranno guardiamo guardiamo questo bellissimo testo che le persone di Filippi questa storia che era lo sfondo della bella lettera che guarderemo insieme la sofferenza non poteva fermare la lode verso dice versetto 25 di Filippi scusate di Atti 16 che verso la mezzanotte non so perché hanno aspettato la mezzanotte ma si vede che non avevano sonno verso la mezzanotte Paolo e Sila pregando vi è mai successo che tu stai pregando e devi cantare non riesci a non cantare forse proprio nelle difficoltà preghiamo e poi cantiamo e loro pregando cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano e a un tratto vi fu un gran terremoto la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzavano la sofferenza non poteva fermare la lode mura e catene non potevano tenere prigioniero il messaggio di Cristo guardate versetto 27 il carceriere si svegliò e vedute tutte le porte del carcere spalancate sguainò la spara per uccidersi pensando che i prigionieri fossero fuggiti ma Paolo gli gridò ad alta voce non farti del male perché siamo tutti qui il carceriere chiese un lume balzò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila poi li condusse fuori e disse quelle parole famose che abbiamo citato mille volte signori che devo fare per essere salvato ed essi risposero potete se lo conoscete dirlo credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e tutta la casa tua e tutta la tua famiglia e poi annunciarono la parola del Signore a lui a tutti quelli che erano in casa con lui ed egli riprese e con sedise in quella stessa ora nella notte lavò le loro piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi poi li fece salire in casa sua apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio questo carceriere aveva trovato la gioia nel posto meno aspettato le mani che avevano legato Paolo e Sila ai ceppi e chiuso la porta della prigione furono le stesse che lavarono le piaghe e diedero loro da mangiare il carceriere che li aveva tenuti prigionieri era diventato prigioniero della forza irresistibile del Vangelo il messaggio del Vangelo è inarrestabile il messaggio del Vangelo è irresistibile quando Dio decreta e poi ti chiama nessuno può fermare quello che Dio vuole fare e così vissero felici e contenti vero? magari no ci sono ancora problemi sono usciti da questo carcere guardiamo come va a finire questa storia fatto si giorno ricordatevi che adesso sono a casa del carceriere i pretori mandarono i littori che erano dei uomini che portavano queste cose si vede sui fasci nel fascismo lo usavano c'era tipo un'arma un'ascia o qualcosa dentro queste cose di grano erano dei simboli dei poteri e mandarono i littori a dire libera quegli uomini il carceriere riferì a Paolo queste parole dicendo i pretori hanno mandato a dire che siate rimessi in libertà or dunque andate in pace ma Paolo disse loro dopo averci battuti in pubblico senza che fossimo stati condannati noi che siamo cittadini romani ci hanno gettato in prigione e allora vogliono rilasciarci di nascosto no davvero anzi vengono loro stessi a condurci fuori che coraggio i littori riferirono queste parole ai pretori e questi ebbero paura quando seppero che erano romani hanno fatto una cosa che non si doveva fare ma qui arriva la parte più forte essi vennero e li pregherono di scusarsi e accompagnandoli fuori chiesero loro di andarsene dalla città allora Paolo e Sila usciti dalla prigione entrarono in casa di Lidia e visti i fratelli riconfortarono poi partirono l'ultimo punto stamattina è che la chiesa di Filippi dovette maturare in modo inusuale dovettero crescere in fretta conoscete persone che forse hanno perso i genitori da molto giovani non hanno avuto tempo per rimanere bambini vero? e mi ha fatto riflettere molto che forse la maggior parte di noi a volte viviamo un cristianesimo un po' viziato un po' immaturo non abbiamo fretta di diventare spiritualmente maturi abbiamo la parola di Dio accessibile in ogni momento non so quante copie ho della Bibbia ma poi preferisco passare un'ora a leggere la rivista sportiva che è leggere la Bibbia o un'ora a fare il cucito o un'ora a fare il giardino e un quarto d'ora a leggere la Bibbia non so qual è il tuo vizio non so qual è la cosa che tu metti sopra la parola ognuno di noi ce l'ha diverso forse per i giovani potrebbe essere un videogioco potrebbe essere stare con gli amici forse mangiare forse uscire ognuno di noi ce l'ha ma questi questi credenti erano appena nati nella loro fede questa chiesa appena fondata e si trovano tutto un tratto orfani di Paolo e Sila e Timoteo che se ne dovettero andare quante delle nostre preoccupazioni e dei nostri impegni hanno valore eterno ma la buona notizia è che noi possiamo osservare e imparare dai filippesi e i filippesi non si diedero per vinti non soltanto dovettero crescere in fretta ma imparano a camminare con i loro stessi piedi erano pronti ad andare senza guide erano pronti a perseverare per la loro fede anche di fronte a forti persecuzioni lo vedremo nella lettera ai filippesi infatti la lettera ai filippesi è la dimostrazione di cosa succede in una comunità dove il Vangelo e Cristo sono veramente al centro quindi ora vi chiedo nel tempo che abbiamo rimasto vi ruberò qualche minuto in più forse vogliamo ricevere adesso questa lettera come l'avrebbero ricevuta conoscendo ora la storia di questa famiglia di Cristo di questi credenti e così aprite se non l'avete già fatto a filippesi e fate attenzione come vedete nei vostri appunti vi toccherà dopo tirare delle somme quello che Dio vi colpirà in particolare da questa lettura cima a fondo di questa lettera e così poi concluderemo il tempo di oggi quindi vedo che siete già prontissimi filippesi Paolo Timoteo servi di Cristo Gesù a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi con i vescovi e con i diacoli grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora e ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù ed è giusto che io senta così di tutti voi perché io vi ho nel cuore voi tutti che tanto nelle mie catene quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo siete partecipi con me della grazia infatti Dio mi è testimoni come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù e prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento perché possiate apprezzare le cose migliori affinché siate limpidi e irrepensibili per il giorno di Cristo ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria e l'ore di Dio desidero che voi sappiate fratelli che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo e la maggioranza di fratelli nel Signore incoraggiati dalle mie catene hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo questi lo fanno per amore sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo ma quelli annunciano Cristo con spirito di rivalità non sinceramente pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene che importa comunque sia con ipotesia o con sincerità Cristo è annunciato di questo mi rallego e mi rallegherò ancora so infatti che ciò tornerà a mia salvezza mediante le vostre suppiche e l'assistenza dello spirito di Gesù Cristo secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla ma che con ogni franchezza ora come sempre Cristo sarà glorificato nel mio corpo sia con la vita sia con la morte infatti per me il vivere è Cristo e il morire guadagna ma se il vivere nella carne porta frutto all'opera mia non saprei che cosa preferire sono stretto da due lati da una parte ho il desiderio di partire e di essere con Cristo perché è molto meglio ma dall'altra il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi ho questa ferma fiducia che rimarrò e starò con tutti voi per il vostro progresso e per la vostra gioia nella fede affinché a motivo del mio ritorno in mezzo a voi abbondi il vostro vanto in Cristo Gesù soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo affinché sia chi io venga a vedervi sia chi io resti lontano senta dire di voi che state fermi in un unico spirito combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo per nulla spaventati dagli avversari questa è loro per loro una prova evidente di perdizione ma per voi di salvezza e ciò da parte di Dio perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui ma anche di soffrire per Lui sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella quale ora sentite dire che io mi trovo se dunque vi è qualche consolazione in Cristo se vi è qualche conforta d'amore se vi è qualche comunione di spirito se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione rendete perfetta la mia gioia avendo un medesimo pensare un medesimo amore essendo di un animo solo e di un unico sentimento non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiore a se stesso cercando ciascuno non nel proprio interesse ma anche quello degli altri abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù il quale pur essendo in forma di Dio non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente ma svuotò se stesso prendendo forma di servo divenendo simile agli uomini trovato esteriormente come un uomo umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è lì sopra di ogni nome affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli sulla terra e sotto terra e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre così miei cari voi che foste sempre obbedienti non solo come quando ero presente ma molto più adesso che sono assente adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore infatti è Dio che produce in voi volere e agire secondo il suo disegno benevolo fate ogni cosa senza mormorì e senza dispute perché siate irreprensivi e integri figli di Dio senza biasimo in mezzo ad una generazione storta e perversa nella quale rispendete come assili nel mondo tenendo alta la parola di Dio in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano né in vano faticato ma se anche vengo offerto in libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede ne gioisco e ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi e nello stesso modo gioitene anche voi e rallegratene con me ora spero nel Signore Gesù di mandarvi presso Timoteo per essere io pure incoraggiato nel ricevere le vostre notizie infatti non ho nessuno di animo pare al suo che abbia sinceramente a cuore quel che vi concerne poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Gesù Cristo voi sapete che Egli ha dato buona prova di sé perché ha servito con me la causa del Vangelo come il figlio e proprio padre spero dunque di mandarvelo appena avrò visto come andrà a finire la mia situazione ma ho fiducia nel Signore di poter venire presto anch'io perciò ho ritenuto necessario mandarvi Epafrodito mio fratello mio compagno di lavoro e di lotta inviatomi da voi per provvedere alle mie necessità Egli aveva un gran desiderio di vederli tutti ed era preoccupato perché avevate saputo della sua malattia è stato ammalato infatti e ben vicino alla morte ma Dio ha avuto pietà di lui e non soltanto di lui ma anche di me perché io non avessi dolore su dolore perciò ve l'ho mandato con gran premura affinché vedendolo di nuovo vi rallegriate e anch'io sia meno afflitto accoglietelo dunque del Signore con ogni gioia e abbiate stima di uomini simili perché è per l'opera di Cristo che Egli è stato molto vicino alla morte avendo rischiato la propria vita per supplire ai servizi che non potevate rendermi voi stessi del resto fratelli miei rallegratemi del Signore io non mi stanco di scrivervi le stesse cose e ciò è garanzia di sicurezza per voi guardatevi dai cani guardatevi dei cattivi operai guardatevi da quelli che si fanno mutilare perché i veri circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne benché io avessi motivo di confidarmi nella carne se qualcun altro pensa di avere motivo di confidarsi nella carne io posso farlo molto di più io circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele della tribù di Beniamino ebreo figlio di ebrei quanto alla legge di fariseo quanto allo zelo persecutore della chiesa quanto alla giustizia che nella legge irreprensibile ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato un danno a causa di Cristo anzi a dire il vero ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore per il quale ho rinunciato a tutto io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo la giustizia che viene da Dio basata sulla fede tutto questo è lo scopo di conoscere Cristo la potenza della sua resurrezione la comunione delle sue sofferenze diventando conforme a Lui nella sua morte per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti non che io abbia già ottenuto tutto questo ossia già arrivato alla perfezione ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù fratelli io non ritengo di averlo già afferrato ma una cosa faccio dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno avanti corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù sia dunque il sentimento di quanti sono maturi se in qualche cosa voi pensate altrimenti Dio vi rivelerà anche quella soltanto dal punto a cui siamo arrivati continuiamo a camminare per la stessa via siate i miei imitatori fratelli e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi perché molti camminano da nemici della croce di Cristo ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo la fine dei quali è la perdizione il loro Dio e il ventre e la loro gloria è in ciò che torna a loro vergogna gente che ha l'animo alle cose della terra quanto a noi la nostra cittadinanza e nei cieli da dove aspettiamo il salvatore Gesù Cristo il Signore che trasformerà il corpo della nostra omigliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa perciò fratelli miei cari e desideratissimi allegrezza e coronamia state in questa maniera saldi nel Signore o diletti esorto evodia esorto sintiche ad essere concordi nel Signore sì prego pure per te mio fedele collaboratore vieni in aiuto a queste donne che hanno lottato per il Vangelo insieme a me a Clemente e agli altri miei collaboratori i cui nomi sono nel libro della vita rallegratevi nel Signore ripeto rallegratevi la vostra manzitudine sia nota a tutti i uomini il Signore è vicino non angustiatevi di nulla ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamenti e la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù quindi fratelli tutte le cose vere tutte le cose onorevoli tutte le cose giuste tutte le cose pure tutte le cose amabili tutte le cose di buona fama quelle in cui e qualche virtù e qualche lode siano oggetto dei vostri pensieri le cose che avete imparate ricevute udite da me e viste in me fatele e il Dio della pace sarà con voi ho avuto una grande gioia nel Signore perché finalmente avete rinnovato le vostre cure per me ci pensavate sì ma vi mancava l'opportunità non lo dico perché mi trovi nel bisogno poiché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo so vivere nella povertà e anche nell'abbondanza in tutto e per tutto ho imparato ad essere saziato ad avere fame ad essere nell'abbondanza e nell'indigenza io posso ogni cosa in colui che mi portifica tuttavia avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione anche voi sapete i filippesi che quando cominciai a predicare il Vangelo dopo aver lasciato la Macedonia nessuna Chiesa mi fece parte di nulla per quanto concerne il dare e l'avere se non voi soli perché anche la Tessalonica mi avete mandato una prima e poi una seconda volta a ciò che mi occorreva non lo dico perché io ricerchi i doni ricerco piuttosto il frutto che abbondi a vostro conto ora ho ricevuto ogni cosa e sono nell'abbondanza sono di colmo di beni avendo ricevuto da epafrodito quello che mi avete mandato che è un profumo di odore soave un sacrificio accetto e gradito a Dio il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù al Dio e Padre nostro sia la gloria nei secoli dei secoli Amen salutate ognuno dei santi in Cristo Gesù i fratelli che sono con me vi salutano tutti i santi vi salutano specialmente quelli della casa di Cesare la grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito Amen sono convinto che Dio trasformerà ognuno di noi per mezzo di questa sua parola e forse brevemente vi voglio ricordare forse hai bisogno di una carica per perseverare nella tua fede forse non hai ancora capito cosa significa essere un seguace di Cristo forse lotti con l'idea del corso di seguire Cristo forse come il seme nella parabola ti senti soffocare dei problemi della vita e hai bisogno di riorientarti forse ti rendi conto che se Dio ha fondato la chiesa più sana del Nuovo Testamento per mezzo di una donna straniera Dio può usare anche te al Dio e Padre nostro sia la gloria di secoli di secoli Amen